Ciao da Dolceminio87, vi voglio salutare una persona particolare e con un saluto con... Sei per me importantissimo e sei entrato nella mia vita in 10 secondi. E in questo cuore tu sei parte di me, quando guardo te, voglio guardare il misisfero del mondo come un occhio di panda. E voglio stare con te per sempre, anche tu se non sai cosa provo per te. Che mi piaci tantissimo e voglio stare per sempre nei tuoi braccia morbidose da panda. Voglio che tu sappi che mi piaci e voglio fare la vita con te. E anche se non sai anche questo, comprati un pc. Voglio dirti quanto tengo a te, anche se mi vergogna tantissimo. Posso dire quanto voglio a te in un istante e mi manchi tanto. Sarà la mia vita, per sempre. La genuattia, dato G-1087 e... Come dici tu, sono un panda sporocchiato. Un bacio tantissimo. Tuo, per sempre. Cuore. Su un matto. Tutto, con un cuore. Grazie.